Benvenuti alla conferenza stampa del film Dieci giorni con Babbo Natale e vi presento le persone che sono qui, le avete già viste inquadrate, comincio da chi ha prodotto questo film, quindi Giampaolo Letta che è vicepresidente e amministratore delegato di Medusa, Alessandro Rosai, amministratore delegato di Colorado, quindi Medusa e Colorado ancora una volta collaborano insieme e a giudicare dalle vostre reazioni, avete già visto il film, credo che sia stata anche questa una collaborazione proficua. Saluto Valentina Lodovini, Diego Abbatantuono, Fabio De Luigi sono i tre protagonisti, non ci sono quei tre bravissimi artisti minorenni però viviamo nel periodo che sapete, quindi questo giustifica la loro assenza, però sono nel nostro cuore, nella nostra allegria di spettatori. E Alessandro Genovesi che è il pilota, Genovesi è il timone di questa storia. Mi sembrava un'occasione, nel senso che intanto raccontare appunto una storia di Natale e in più a Natale è comunque piacevole perché puoi muoverti in un ambito di narrazione che è quello della fantasia anche, no? E quindi l'idea di mettere questo ingrediente fantastico all'interno invece di un ambiente, di una narrazione iperreale come è quella della loro famiglia che avevamo imparato a conoscere anche l'anno scorso e in più in commedia mi sembrava una bella occasione. In più appunto io ho la fortuna di avere come amico il vero Babbo Natale e quindi mi sembrava pazzesco non usarlo, mi sembrava veramente uno spreco. Sono occasioni uniche. Eh sì, quello dicevo, infatti l'ho fatto insomma, l'ho fatto, l'abbiamo fatto. Noi siamo stati abbastanza fortunati nel senso che avevamo praticamente finito tutto, oddio tranne la parte che quella poi doveva essere sostanziale e cioè di andare in Lapponia effettivamente in Finlandia e fare delle scene, fare delle scene lì. Lì siamo stati proprio interrotti nel senso che parte della truppa era già partita ed era in Finlandia, noi stavamo per andarci quando tutto questo è coinciso proprio con i giorni del lockdown in cui non partivano gli aerei, non si sapeva se insomma fossimo andati là, poi se si sarebbe potuti tornare e quindi si è deciso di interrompere. Dopodiché abbiamo proseguito, abbiamo terminato le riprese invece a luglio cercando di ricostruire tutto quello che ci serviva e di modificare poi anche all'interno la storia perché non era possibile, insomma a luglio a noi serviva la neve e la Lapponia e a luglio anche in Lapponia di leve ce n'è poca, quindi sarebbe stato assurdo andare là. E invece quindi questa è stato più o meno il contatto, come il Covid, dicevo grazie al cielo ci ha solo sfiorato. Mi sembrava che insomma la storia con tutto che veniva raccontata parecchio nel primo film però mi sembrava che ci fosse ancora da dire, si potesse ancora parlare di questa famiglia e soprattutto del rapporto che c'è proprio tra i due genitori e quello che rappresentano anche da un punto di vista sociale, cioè nel primo film avevamo una mamma che più o meno per esigenze oggettive stava a casa e badava più o meno ai figli e un padre che invece lavora più o meno, perfettamente i figli, però faceva anche altre cose, non era una ciabattata tutto il giorno. E invece con un padre che passava la maggior parte del tempo fuori, non se ne occupava e a questa appunto era a grandi linee la storia del primo film, mentre invece qua abbiamo provato a ribaltare effettivamente i ruoli e a chiederci che cosa succede se invece un padre, perché lì lo faceva e lo faceva solo per dieci giorni, qua effettivamente abbiamo la mamma che è ritornata davvero a lavorare e a occuparsi anche di un'altra parte importantissima della vita che è quella della carriera e un padre che invece il suo malgrado non riesce a trovare lavoro anche perché comincia, nonostante sia interpretato dal meraviglioso e sempre giovane De Luigi, comincia ad avere un'età e quindi c'è anche questa difficoltà, ripeto il film non indaga quello e non vuole neanche farlo perché non aveva tanto senso, però un pochettino sì e cioè la della difficoltà di un cinquantenne di lasciare un lavoro che era fisso e sicuro e di trovarne un altro ex novo insomma. E poi c'era la cosa del Natale che secondo me questa storia e questa famiglia, secondo me e secondo tutti devo dire, questa storia e questa famiglia poteva essere incrociata dal Natale e poteva scontrarsi con la figura di Babbo Natale. È stata una naturale, veramente una naturale conseguenza del primo, si era creato quello che si dice un bellissimo clima che diventa anche stucchevole, però eravamo con appunto quei tre minorenni che abbiamo ricordato prima e ci siamo ritrovati esattamente a quel punto lì, la voglia da parte di tutti, di Alessandro, mia, dei produttori di raccontare ancora un altro pezzettino di questa vicenda familiare, ci ha fatto ritrovare tutti belli felici di condividere ancora una volta il set, poi è entrato a piedi uniti come avete visto Babbo Natale e ha sparigliato le carte, per fortuna nostra e del film insomma. Beh sì, non aggiungo nient'altro perché penso le stesse cose, è stato facile, molto facile. Possiamo chiedere adesso a Diego se è stato altrettanto facile? Beh io essendo Babbo Natale per me il problema non sussiste, dove mi metti sto, avevo da fare delle cose ma mi sono assentato e poi avendo questa… io sono, proprio sono Babbo Natale, io ho pensato per anni che forse era Bud Spencer Babbo Natale, invece no, ero io, o forse lo è stato anche lui e mi è insaputa, cioè si arriva, io penso che sia stato anche Gesù Bambino da piccolo, sono convinto, poi ho fatto delle figure intermedie durante e non posso raccontarle e poi adesso ho arrivato all'età giusta e che durerà per tanto, ve lo dico già prima, è inutile che c'è gente che si affanna, però io ho questa roba a Babbo Natale per tanti anni, mi viene proprio naturale, è fatto così, ho dovuto certo, certo questo sforzo alimentare che devo fare può prestare nel personaggio, però c'è anche un passato atletico perché Babbo Natale si vede che c'è dietro della roba, arrampicati, tu vai in giro, buttati nei cammini, salta fuori, insomma è complesso, quindi c'è un lavoro dietro, ma insomma oramai quest'anno è stato sdoganato sto fatto, sono Babbo Natale, quindi per me non è proprio un problema, devo dire poi ho trovato, mi hanno investito effettivamente, quindi potrei ancora chiedere dei danni, però non ancora devo decidere, ma ho stato investito dalla famiglia più adatta a investire Babbo Natale, perché loro, l'idea di avere una struttura che sta in piedi è così piena di tiranti, di motivazione, perché il film finché mi investono a me non senti l'esigenza di Babbo Natale, perché il film è bello, potevano farne tre senza Babbo Natale, invece casualmente mi hanno preso dentro proprio a me in macchina, quindi sono subentrato io e devo dire però che insomma lavorare con loro, diciamo che c'era nell'area sto Babbo Natale e doveva andare a qualche parte, il posto migliore era in fase investita, io giravo cercando appunto qualcuno che volesse fare il film di Babbo Natale, ma l'ho investito loro, l'ho fatto con loro, mi sembra che sia stata una soluzione ideale e speriamo che io mi ripresenterò in quelle vie, se volete fare quel giro lì col camper, se c'è gente che vuole passare di lì mi tira sotto e io sono lì. E quindi benedetto l'investimento senza danni, Diego non è stato maltrattato? No, avevo un bel airbag davanti, insomma, ci sono delle esigenze e secondo me valeva la pena di raccontarle, no? Quindi a me viene in mente una battuta che dice il personaggio che interpreta Valentina e quando le danno questa possibilità di andare a fare un colloquio e quindi di avere questa promozione, lei dice pensiamoci, io ho studiato per questo, no? E quella scena che secondo me credo più o meno sia quella di cui tu parlavi, mette davvero in luce dei, come dire, degli egoismi, perché poi quello sono dei genitori che chiedono affermazione riguardo a una cosa che per loro è fondamentale e in quel caso è il lavoro, no? E come il lavoro davvero riesca a minare, cioè l'averlo e il non averlo, riesca a minare in maniera anche abbastanza seria per loro intanto la serenità familiare, la felicità, ma proprio le sicurezze di uno e dell'altro, no? E quindi in realtà questo viaggio che poi fanno, che poi fanno verso Stoccolma diventa... Stoccolma? Non riesco più a fermarmi! Insomma, grazie a questo viaggio e grazie anche all'incontro con Babbo Natale che poi scopriamo alla fine essere tutto stato programmato perché venisse realizzato, insomma perché venisse dato il regalo a Tito, però diventa in qualche maniera catartico per tutti, no? E anche per i genitori, quindi arriviamo invece alla fine sempre al personaggio della mamma di Valentina che capisce che forse questa cosa alla quale lei tiene tanto non è poi così importante, là davvero non si voleva dire che le donne è meglio che stiano a casa con i bambini e non alzino troppo la cresta assolutamente, no? Però che c'è una giustizia e cioè che se tu fai tre figli, al di là del fatto che lei continuerà a lavorare come avvocato nello studio in cui lavorava prima, però qualche rinuncia ma che poi sono rinunce in realtà piacevoli da fare, no? Sono rinunce giuste da fare e quindi arriva a capire questo, non so, mettere dentro a una commedia, a una commedia natalizia anche delle dinamiche visto che comunque è della famiglia e di questa famiglia che stiamo parlando a me sembrava interessante francamente, la rende un po' più cicciotta. Io ho amato molto il personaggio di Giulia anche per questo motivo, no? Un po', vabbè, li ritroviamo a ruoli invertiti e questo mi divertiva tanto perché adesso lui è a casa e lei sta lavorando. E poi questo fatto, proprio credo che uno dei punti di forza maggiori sia di Dieci giorni senza mamma che ora di Dieci giorni con Babbo Natale è l'identificazione, anche se in questo caso tra l'altro parliamo di una favola natalizia, ma comunque ci si identifica tanto. E a me faceva impazzire questo fatto di rappresentare questa donna che deve trovare l'equilibrio come tantissime donne tra il lavoro che peraltro amano e hanno scelto e l'amore della famiglia e infatti continuavo a dire mi sento in colpa, penso che Giulia si sta sentendo veramente tanto in colpa come immagino non essendo madre che possa capitare, no? Tantissime. E abbiamo discusso sul fatto che probabilmente se fosse stato l'uomo a dire devo andare a Stoccolma per motivi di lavoro, una promozione, la famiglia avrebbe fatto le valigie, valigie in silenzio, avrebbe seguito o sarebbe rimasta a casa, ma senza problemi invece comunque parte dalla donna e c'è questa cosa. Però poi la famiglia viene affidata a Babbo Natale nella storia, no? Per certi versi, perché comunque viene affidato a Babbo Natale e di conseguenza anche ai bambini. Io credo che poi alla fine la scelta di Giulia, come immagino possa accadere tante volte nella vita, è proprio forse per non stravolgere i figli più che altro. Quindi non è tanto, no? La donna deve rinunciare, eccetera, eccetera, ma fai una scelta tra i ragazzi, i bambini, che poi insomma due sono anche comunque grandi, no? Più che in quel caso, più che, non so se mi sono spiegata, ma più che una questione di genere, l'ho vista più famiglia, lavoro, bambini, non creare un trauma sui figli, insomma. Non so se mi sono spiegata, forse no. Alessandro, Fulvia vorrei sapere anche da te, appunto, il tuo punto di vista. Da me, dunque, partendo dal presupposto che sono quasi femminista, no? Cioè, secondo me, quello che cercavo di dire prima è che forse mi sono espresso male. Però noi raccontiamo un personaggio che, perché è molto contenta di essere tornata a lavorare, lavora in media 15 ore al giorno, i figli lamentano la sua presenza e quindi, non so come dire, non è una questione di strutture che mancano perché una donna, una persona, possa fare quello. A mio parere, però è il mio parere, quindi non è un manifesto, quella è un'esagerazione che ti fa perdere se fai tre figli, no? Perché ti fa perdere di vista alcune cose importanti. Intanto ti fa perdere dei momenti che tu puoi passare con la famiglia, che può essere una cosa piacevole, no? E quindi non sto dicendo che una donna che fa tre figli non deve lavorare. Secondo me non deve lavorare 15 ore al giorno per sempre, perché se no è un'altra cosa. Ecco, solo questo. Però è un mio parere, non è quello che volevo. È vero che ci sono stati, lì c'entra anche, devo dire, il cambio di programma del Covid, c'era un altro finale, era un'altra cosa. Però quella che ne è uscita è come il modo in cui ci arriva Valentina, il suo personaggio, insomma, perché non dice esattamente quello che mettevi tu nella domanda, ecco, solo questo. C'era anche Diego e poi lo sentirei anche Fabio. Un mio amico che doveva andare a lavorare in Brasile, aveva avuto una promozione e però aveva quattro figli e ha pensato, ma io perché devo andare in Brasile, voglio stare con i miei quattro figli, è rimasto in Italia, però non mi sembrava una scelta, cioè mi sembra una scelta che sia avulsa dal fatto che sia una donna o un uomo che la faccia. È una scelta di vita che proprio rende uguali le persone in quanto la possono fare sia l'uno che l'altra. Cioè, dal momento in cui prendo in considerazione il problema, mi sembra che nasca il problema. Se non lo prendi in considerazione non nasce una storia. Se non ti dico la verità, non sono Babbo Natale. E così è vero. S'ha caricato? No, 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 ho cambiato. Ve l'ho detto per chiudere questo tema. Fabio, vuoi dire qualcosa? Vuoi intervenire anche tu su questo? No, no, mi sembra che abbiano già espresso i pareri più o meno che condividono. Si tratti di una scelta in questo caso, una scelta che matura durante tutta la durata del film da parte di Valentina ed è una scelta che non è dettata dal genere, insomma, non dal fatto che lei sia donna o uomo, è un individuo che ha un'occasione di lavoro appetibile, che viene accompagnata dalla famiglia in questa nuova avventura, in questa nuova possibilità di lavoro e che strada facendo realizza che forse vuole anche altro. Quindi è una libera scelta di una persona, non la dividerei con uomo e donna. Sì, no, guarda, ti dico, quella scena là io l'ho voluta tantissimo, anche questo mi rivolgo sempre a Ale perché ovviamente ne ho discusso con lui. Perché era il momento in cui, è ovvio, tutti i personaggi hanno dei conflitti interiori, forse Bianca non ce l'ha, ma forse ce l'ha pure lei in realtà, ma ce l'ha Tito, ce l'hanno veramente tutti, Camille. All'interno di una commedia è quello che vogliamo, ma insomma, io sentivo la necessità di buttare fuori in qualche modo questo conflitto, di palesarlo, proprio anche perché questo senso di colpa che veniva man mano, non avendo l'esperienza di madre, ho tante amiche madri, sì che sento che si sentono magari in colpa per la qualità del tempo, la quantità, eccetera, ma ho pensato che deve venire fuori, in qualche modo deve venire fuori, e sì che per me era fondamentale che ci fosse questo sfogo e soprattutto con Babbo Natale, perché posso dire che Babbo Natale si è identificato un po' con Giulia in quel momento? Certo, infatti ero d'accordissimo. No, ma perché poi ci sta, ci sta, no? Appunto, dentro ti si smuove un mare comunque, sei molto combattuto, sicuramente, e ti senti anche sola, perché comunque ti pare che nessuno ti capisce, questo fatto anche che sei privilegiata perché il tuo sogno diventa realtà, o comunque c'è una promozione, comunque c'è un qualcosa di molto importante relativamente a quell'aspetto della realizzazione, e gli altri hanno le loro cose e nessuno ti chiede niente, ti chiede nemmeno come stai, cioè, allora era giusto secondo me che venisse fuori proprio per tutte quelle donne che spero, mi auguro, si possano identificare le madri lavoratrici che ci hanno magari dentro questa cosa qua. farei, la dimostrazione che sono Babbo Natale, farò finire il 2020, il 2020 verso Capodanno credo di essere riuscito a trattare la cosa in questo modo, sicuramente finirà l'anno, e per quello futuro posso dire che credo che peggio di questo sarà molto difficile, quindi c'è un grande ottimismo, fra me e gli altri che decidono queste cose, io, Zeus e altri, quindi siamo lì a parlarne, però io, come poi decido io, vi dico che finisce, arriva Capodanno e poi la Befana, sappiamo tutte le storie, tra l'altro una mia amica, quindi posso dire, questo è il regalo più bello, poi altri regali ne porterò, ma la gioveduta a secondo, adesso c'ho da fare, infatti stasera poi devo andare via perché siamo sotto stress, è un momento di grande lavoro, infatti c'ho le pastiglie della pressione, tutto da prendere. Ma è chiaro che è una situazione particolare in cui ci siamo trovati nuovamente, credevamo quest'estate di averla sfangata in qualche modo e pensavamo onestamente che anche quest'inverno con tutte le misure di sicurezza e le precauzioni prese si potesse continuare ad andare al Cina, purtroppo questo non è stato possibile, probabilmente come dalle varie anticipazioni la chiusura delle sale sarà prolungata, comprendiamo e capiamo perfettamente i motivi e chiaramente la gravità della situazione. Siamo dispiaciuti perché è ovvio che è un film come tanti altri che sono nati per il Natale, per la sala, per le famiglie, però la situazione è questa. Sul nostro cammino ci siamo trovati nuovamente con gli amici di Prime Video e quindi potrà essere visto comunque da tantissime persone attraverso la piattaforma di Prime Video. Come valuteremo? È chiaro che dati non ce ne sono e io penso che il migliore riscontro al di là anche quando i film escono in sala, che c'è il box office, la notte il Cinetel ci confrontiamo con le nostre chat anche divertenti e la mattina dopo quando vediamo i risultati il riscontro migliore è quando il pubblico, la gente fa i complimenti per il film, fa i complimenti agli attori, al regista e quando si sente nell'aria che il film è piaciuto ed è stato apprezzato. Quindi quello sicuramente grazie anche alla grande diffusione di Prime Video sarà il riscontro che avremo e dai primi che abbiamo il film è piaciuto molto, quindi già da stasera siamo molto contenti. Diciamo dal punto di vista produttivo, come ha risposto Alessandro, siamo stati fortunati perché avevamo fatto la scelta, che spesso i film di Natale non fanno per esigenze logistiche produttive, di girare d'inverno, cioè volevamo un film di Natale che fosse effettivamente girato a Natale e quindi tra l'altro quelle scene che avete visto in esterno con Fabio e Diego vi potranno garantire loro che la temperatura era assolutamente natalizia, eravamo in diversi punti, diversi gradi sotto zero. Quindi avendo fatto questa scelta avevamo l'esigenza di partire ovviamente presto con le riprese, prima di quanto spesso si faccia, ripeto, per i film di Natale classici e questo in realtà ci ha aiutato ovviamente perché ci siamo portati molto avanti sul piano di lavoro. Cosa sarebbe successo durante il Covid? In realtà come produzione noi abbiamo continuato a lavorare dopo il primo periodo di lockdown, cioè da quando è stato approvato il cosiddetto protocollo per le produzioni, quindi dall'estate abbiamo ripreso, stiamo girando anche adesso, proprio in questi giorni. Ovviamente ci sono delle differenze, devo dire che la differenza più grande è che un tempo eravamo preoccupati del rispetto del piano di lavoro, del girato e basta, diciamo questa era la cosa principale, adesso il momento diciamo clou della settimana è il giorno dei tamponi nel quale arriva la telefonata, tutti negativi e sappiamo che per i giorni a seguire potremo proseguire a lavorare, quindi questa forse se devo dire è la differenza principale, però ripeto siamo stati felici di aver potuto girare d'inverno una commedia natalizia e penso che questo un po' restituisca anche un po' di realismo, un po' di verità in più che secondo me in una storia così è sempre utile, visto che già si parla di un tema un po' fantastico che si è ancorato a qualcosa di vero e secondo me è una delle cose che mi piace del film. Chi lo sa, insomma anche l'altra volta non avevamo già scritto neanche nella mente il fatto che saremmo andati avanti con una seconda parte della storia, poi abbiamo avuto una conferma che principalmente è stata quella che il film è andato bene, che ha avuto successo e quindi ci ha fatto venire a tutti voglia di andare avanti a raccontare, no? Perché qua è un po' diverso perché appunto non essendoci quell'indice lì che è così oggettivo e cristallino, chi lo sa? Guarda, se hai un soggetto leggo volentieri, leggo praticamente tutto e magari da lì posso partire, però al momento non, almeno dentro di me non c'è… Bisogna che decidiamo in freddo perché devo fare Batman, non so se… Bisogna che ci facciamo presto. Non lo so, è che è uno strano Natale, questo mi sembra evidente, no, dispiace un po' per la situazione, quindi queste sono per certi versi paturnie da noi che facciamo questo lavoro e sappiamo insomma qual è la situazione ben più grave che ci porta a non essere in sala, però dispiace perché ovviamente la sala regala comunque anche banalmente sedendosi per ascoltare come reagiscono le persone, insomma è una bella sensazione, questo film era nato proprio per quel motivo lì, però ci fa molto piacere ovviamente finire insomma su una piattaforma così importante, insomma arrivare a così, speriamo, così tanta gente immediatamente. Si può sopportarmi, mi viene a dire, io sono abbastanza impostato anche per dei Natali fondamentalmente abbastanza sobri, quindi non ho proprio il tema, non c'è il tema, nel senso che credo che le stesse persone che c'erano l'anno scorso ci saranno quest'anno e sarò comunque in regola, per cui non lo so, io non la vedo come una sofferenza così clamorosa, adesso senza fare retorica, però insomma… Scusa ma questo Natale è anche frutto di un'estate credo, quindi noi abbiamo fatto un'estate brillante, adesso ci abbiamo un Natale cupo, quindi a maggior ragione uno dovrebbe cercare di godere di questo Natale con quello che si può fare, non si può andare in sala e ci dispiace a tutti, lo sappiamo, però si può stare a casa a vedere il film in televisione, si può stare a casa con meno persone, che per me è una tragedia, visto che vivo, ho una massa di persone che mi frequentano e che frequento ed è l'unico hobby che ho, la tavolata, io di hobby, c'è chi ha le macchine, gli automobili, chi ha gli orologi, io ho la tavolata e purtroppo mi salta la tavolata, però d'altronde se avessi fatto il fesso anche quest'estate sarebbe stato peggio, io sono stato attento, qualcuno ha divulgato l'idea che senza l'estate di Sciambola non si potesse più sopravvivere, invece io mi ricordo quando ero piccolo e sono passati tanti anni, quando facevo Gesù Bambino, ero ancora Gesù Bambino e delle volte non c'era la possibilità, non si andava in vacanza perché la gente non aveva i soldi, perché non poteva permettere e si accettavano le cose, la pericena non esisteva ancora, c'erano le merende ancora, però si poteva andare avanti lo stesso, quest'estate si è divulgata la notizia che era impossibile, non frequentando una discoteca, sopravvivere e questi hanno messo in giro la voce che uno stava male se non andava in discoteca o alla pericena e invece non è stato così, sta male adesso, quindi pensiamo a questo Natale come un Natale di godimento perché finisce l'anno, come abbiamo detto, però stiamo attenti a non fare sì che questa cosa duri ancora di più, io vedo così il Natale. Valentina? Ma dunque riguardo il personale trovo che non ci sia assolutamente niente da dire, è un'eccezione, speriamo che sarà comunque l'eccezione di questo Natale soltanto e basta, non c'è poi tantissimo altro credo su cui discutere o ragionare o di cui rammarecarsi, c'è una situazione incredibile e terribile, bisogna far capo a quello, basta, rinunceremo a una tradizione, io sono piuttosto così relativamente all'argomento, rispetto al nostro film, credo che le piattaforme sono in questo momento la giusta sopravvivenza per il cinema. Io ho trovato il nostro film bello, una bellissima commedia, favola natalizia e vi faccio ciò che ha fatto su di me, giornate così grigie, che è un ufemismo di finire grigie, mi ha alleggerito e mi ha dato un sollievo, mi auguro che lo faccia, cioè che abbiano la stessa reazione tutte le persone che lo vedranno perché almeno, insomma, c'è un piccolo alleggerimento, un piccolo sollievo in questi momenti, è così, quest'anno è così comunque. Ma quest'anno, come aveva detto l'agile Usai, noi abbiamo vissuto la parte delle riprese prima, con l'avvisaglia, stava per succedere qualcosa, ma siamo riusciti, dopodiché io per esempio sono rimasto a casa molti mesi, ho avuto la fortuna di mangiare la foglia, come dicono Milano e forse anche in altre regioni e di capire che si sarebbe bloccato tutto, ho una casa in campagna, ho fatto pace con la natura, ho capito che le stagioni erano quattro, ho visto che in genere lavoro sempre e ne vedevo una e ho visto i colori che cambiavano, abbiamo piantato degli alberi, cosa che si dovrebbe fare sempre, quando non si sa cosa fare, uno pianta un albero e vai sempre bene. E quindi tanti mesi in casa, però è stata una sofferenza, torno a dire, per tutti, questo non è stato un anno, è un anno che deve finire e deve cominciare uno dove bisogna far tesoro dell'esperienza, perché se no è difficile il cinema, devo dire io ho visto tutti i film viventi, tutti, quindi non vedo l'ora che escano, purtroppo non potendo andare in sala, non vedo l'ora che le piattaforme, la piattaforma in particolare, il nostro film, perché lo rivedrò molte volte, con le mie nipotine, con quelli che riuscirò a vedere, spero di vedere qualcuno, almeno se no mi faranno vedere, mi telefoneranno e diranno sto vedendo il film, però bisogna stare attenti e vedere il film, è l'unico modo per passare il tempo, studiare, leggere, fare la dieta come me, ma prego finito l'ora. Fabio, di che finisco io, meglio darei le parole a qualcun altro. L'anno è passato esattamente come quello di Diego, perché come credo per tutti, poi noi, forse lo ricordavi tu prima, giustamente, siamo veramente quelli privilegiati, perché riusciamo ancora oggi, in questo momento, a stare su un set con tutte le attenzioni del caso, con le paure che faceva riferimento prima Alessandro, per cui c'è il giorno del sorteggio, sembra, ogni volta che si va a fare il tampone e si spera che tutti stiano bene per proseguire, ci sono reparti che hanno subito invece un colpo molto forte, tutti gli spettacoli dal vivo, insomma, tutto il movimento, le maestranze, tutti quelli che stanno intorno, sia per quanto riguarda le sale, sia per quanto riguarda i teatri. Per cui io, fortunatamente, ci siamo fermati, come è noto, tutti, per due mesi, due mesi e mezzo, e poi adesso, da poco, ho ricominciato a lavorare, sono ben felice di farlo. Per cui questo è stato il mio anno, un po' a singhiozzo, però, insomma, più fortunato di quello di tanti altri, credo. Valentina, per te l'anno e soprattutto Sanremo, impari di capire. Dunque, dentro ci sono un po' di cose, sicché è molto delicato, ovviamente, parlarne, è proprio un argomento fragile, io ho difficoltà a parlarne così, in cinque minuti, eccetera. Posso dire, probabilmente è una cosa molto retorica, ma, indubbiamente, la pandemia ha scoperchiato tutte le fragilità, proprio tutte, tutte quelle che ci sono, nel nostro mestiere e non solo. E adesso è la cosa che non si può più far finta di non vederle, sicché capiamo il momento dove siamo, lo capiamo, adesso io, non lo so, spero solo che in qualche modo almeno possa servire tutto ciò, no? Ad affrontare le varie fragilità che sono state scoperchiate, compresa quella dei lavoratori dello spettacolo, no? Per esempio, cominciando a capire che è un mestiere, anche il nostro, però, insomma, il discorso è veramente, a mio avviso, no? Complesso, delicato, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, boh, vedremo, insomma, per ora, ad oggi, al 2 dicembre, non si parla nemmeno di, per quanto riguarda il nostro proprio settore di, no? Di aprile, maggio, giugno, ma in qualche modo la riapertura dei progetti, dei programmi, delle idee non ci sono, lo sappiamo, ci sono sulle piste di sci, ma è un altro discorso. Sanremo da cantante, io lo voglio fare, non da valletta, ma da cantante. Avete testi? Qualcuno ha dei testi? E io mi presento, votatemi, grazie. Va bene, certo. Grazie. No, mi rendo conto, scusami, io lo so di non aver risposto, deve essere stato un po' confuso, ma è un tema troppo complesso, quello del Covid-19, non da affrontare, per me. Abbiamo accennato, ci sono, noi siamo fortunati perché lavoriamo, perché come stavamo dicendo la gente, vede i film in televisione, ma tutti quelli del teatro, quelli che fanno le serate, io facevo il cabaret e ho tanti amici, sono tutti a casa e poi ho amici che si sono ammalati e sapendo come soffrono, devo dire che bisogna stare molto attenti, perché è una sofferenza pazzesca, non è una passeggiata, purtroppo cerchiamo di stare allegri e di vedere i film belli, piacevoli, di passare delle belle serate, però ricordiamoci che è una cosa pericolosa, io lo dico perché il primo ciclo l'avevamo subdorato, ma questa volta è pazzesco, c'è un sacco di gente che io conosco che non sta bene e gli faccio tanti auguri e spero che si riprendano presto, perché è una cosa lunga, difficile, insomma, teniamo alta la guardia. Grazie Diego, allora 10 giorni con Babbo Natale da venerdì su Prime Video, vi ricordo l'embargo, grazie a tutti voi e passate una buona serata. Grazie, grazie a tutti.